L'ultimo componente Tutti pensano che il tempo vada avanti Io ho scoperto invece che il tempo Va su Immaginate la vita come un bicchiere vuoto E il tempo come l'acqua necessaria per riempirlo Per essere riempito il bicchiere ha bisogno che l'acqua arrivi verticalmente Quindi è possibile viaggiare soltanto indietro nel tempo O meglio, giù nel tempo Per farlo ci sono due modi Il primo è bere un sorso d'acqua Ma poi sarebbe impossibile tornare nel presente Il secondo invece è immergersi Ed è proprio quello che farò Per farlo ci sono due modi Per farlo ci sono due modi Per farlo ci sono due modi Il secondo è stato che ci sono due modi Con questo è un kerla Buon modo Grazie a tutti. Grazie a tutti.